Lavoro, crisi economica, diritti, banche, migrazioni e instabilità politica. E' un Paolo Gentiloni a tutto campo quello che incontra i giornalisti per la conferenza stampa di fine anno. Pur nelle difficoltà, il Premier rivendica risultati positivi e sulla crisi migratoria dice Ma la transizione dalla criminalità alla gestione di questo fenomeno è possibile. E l'Italia lo dimostra con più di un terzo di arrivi in meno quest'anno, 70% in meno di arrivi da luglio a oggi, con una diminuzione drastica dei morti in mare. Ma Gentiloni, passerà la mano o correrà per la riconferma? I giornalisti cercano di estrargli una risposta con le tenaglie, ma il Premier afferma. La memoria è sacrosanto, però i governi non sono super partes, no, i governi fanno riferimento normalmente a una maggioranza e è normalissimo che chi guida un governo abbia anche un ruolo in una campagna elettorale, pur non essendo il segretario di un partito. Il governo governerà, poi ci sono le elezioni, mi auguro che la mia parte politica abbia un ottimo risultato alle elezioni e che questo consenta di fare un governo con le caratteristiche che io preferirei.